Non facciamo che andiamo leggeriti nei passaggi e ci rimane la palla là, ok? Questo è soprattutto la nostra metà al campo. Bello deciso, va bene? Dai, dai, dai! Ci siamo tutti? Ci sta? Si può, si può. Scusate che questa voglia fare il primo panico. Vabbè, te lo farò, dai. Dai, la caponata, lascia a te, capetà. Lascia a me la caponata. Ti avrò prima di fare con la caponata. Vai. Buon pancina, eh? Bello. Sì, va bene. Dai, insieme a te. Vedi che devo. Vabbè, vi volevo scusare per il piccolo dubbio che ho avuto qualche settimana fa, ma non l'avevo avuto a voi, magari. Quindi sono orgoglioso che Fiera ci sta qua con voi. e vedemelo che va a fare la calcina. Pronti? Francesco del Regno. No, no, no. Una, 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 una. Vado a voi. Edo, dai. Grazie a tutti.